C'è ottimismo nel Comitato per la Sanità di Sciacca dopo il primo confronto con il nuovo direttore generale dell'ASP. Positive le impressioni sull'approccio che il nuovo manager ha avuto verso la sanità del territorio Saccense. Ha raggiunto quota 72% la differenziata Sciacca nel mese di gennaio. Prossimo obiettivo è stendere il porta a porta nelle zone ancora non servite, ma ci sono cittadini che ancora conferiscono la frazione umida in sacchetti non conformi. La vicenda della scuola di via Catusi è l'ennesima dimostrazione della lentezza dell'amministrazione Valenti, così oggi l'opposizione di centrodestra dopo la protesta di ieri dei genitori dei bambini che frequentano il plesso. Si riaccende il dibattito politico a Sciacca sulla gestione del servizio idrico. I consiglieri di progetto Sciacca, Bono e Miglioti tornano ad attaccare il sindaco. In città intanto continuano le perdite idriche non riparate dal gestore. Altro episodio di avvelenamento di cani a Sciacca, ma questa volta lieto fine, i medici del servizio veterinario dell'ASP hanno salvato la vita di un randaggio che la scorsa notte incontrata a Ferraro aveva ingerito una polpetta avvelenata. In posta di soggiorno operatori turistici e cittadini devono poter scegliere come utilizzare queste risorse. La gestione non può essere esclusiva a pannaggio dell'amministrazione. Così oggi Teresa Bilello che sull'argomento ha presentato una mozione. Benvenuti al nostro telegiornale. In apertura la sanità, primo confronto ieri ad Agrigento tra il Comitato per la Sanità di Sciacca e il nuovo direttore generale dell'ASP. Le impressioni sono positive in relazione all'approccio che il nuovo manager ha avuto verso la sanità del territorio e gli ospedali di Sciacca e Ribera. Santonocito ha annunciato, peraltro, che intende assicurare costantemente la sua presenza a Sciacca. Sentiamo le dichiarazioni dei rappresentanti del Comitato. Un primo confronto, ma le valutazioni sono comunque positive. Il Comitato per la Sanità di Sciacca ha incontrato ieri ad Agrigento il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, Giorgio Giulio Santonocito. In primo piano le problematiche attuali del Giovanni Paolo II, ma anche le prospettive legate al riconoscimento di struttura DEA di primo livello. È un'impressione positiva dal punto di vista professionale e dal punto di vista umano. Intanto lui conosce già molte cose. Ha fatto degli apprezzamenti non positivi sulla nostra struttura ospedaliera, lasciando intendere di voler assumere delle iniziative di carattere logistico. C'è qualcosa che secondo lui è ben lontano dai modelli ospedalieri attuali, moderni. Si è posto altresì il problema dell'ordine, quindi delle macchine, della circolazione. Sappiamo che lui avrebbe già individuato un suo ufficio a Sciacca per delle visite periodiche che ci lascia intendere la sua volontà magari di colmare un vuoto di direzione e di controlli. Questa è una cosa sicuramente positiva perché a volte si ha la sensazione netta di essere in presenza di una struttura cefala. E da questo poi derivano delle conseguenze negative. Noi gli abbiamo detto proprio questo. Che ne pensa lei dello slogan del Comitato Civico di Sciacca? Ospedale di Sciacca, Dea di primo livello, Agrigento, Dea di primo livello. Sciacca, ospedale Sciacca non più ospedale satellite rispetto ad Agrigento. E quindi c'è la necessità nel rispetto della rete, quindi ci sono responsabilità ben precise. se è necessario dare a Sciacca tutte le risorse sulla linea della dignità identica rispetto ad Agrigento. Lui ci ha risposto positivamente con un sorriso. È stato un incontro preliminare, quindi è ovvio che si parte dalle urgenze. Peraltro abbiamo avuto l'impressione che ne fosse abbastanza consapevole a partire dagli aspetti strutturali, del traffico e quindi della congestione degli spazi, per esempio davanti al pronto soccorso, fino allo snellimento delle procedure per l'assunzione o la selezione dei dirigenti di reparto. L'impressione che ne abbiamo ricavato è stata quella di trovarci di fronte a una persona che innanzitutto rispetta i ruoli, pretende rispetto del suo, ma è in grado di rispettare i ruoli di quanti vogliono collaborare per un miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria. E quindi il terreno di confronto sarà sulle troppe omissioni e sui troppi ritardi accumulati dalla sanità agrigentina complessivamente, ma del complesso ospedaliero di Sciacca e Ribera specificatamente. E le interviste integrali ai due rappresentanti del Comitato Civico per la Sanità di Sciacca andranno in coda al nostro telegiornale dedicato appunto alle problematiche che riguardano il Giovanni Paolo II e al nuovo incontro con il nuovo direttore generale dell'ASP. 72,1% e questa è la percentuale di raccolta differenziata raggiunta Sciacca nello scorso mese di gennaio, una percentuale che dunque si mantiene alta. Il prossimo obiettivo dell'amministrazione è quello di estendere il porta a porta nelle zone non coperte ancora da questo servizio perché non è previsto dal piano Aro. C'è però un richiamo dell'amministrazione ai cittadini ad un uso corretto dei sacchetti. Dall'impianto di compostaggio riferiscono infatti che la frazione umida giunge in sede all'interno di sacchetti non conformi. La nostra intervista all'assessore all'ecologia e all'ambiente Carmelo Brunetto. Continua a mantenersi alta la percentuale di raccolta differenziata Sciacca. A gennaio è stata registrata quota 72,1%. Un risultato che l'assessore Carmelo Brunetto commenta così al nostro telegiornale. Continua a funzionare bene e ci manteniamo sempre su questi dati, 72-73 abbiamo raggiunto anche percentuali del 75% nel mese di ottobre e vorremmo continuare ad aumentare sicuramente la percentuale di raccolta differenziata. L'obiettivo dell'amministrazione comunale adesso è quello di estendere il sistema di raccolta porta a porta anche in quelle zone non ancora coperte da tale servizio ed eliminare così i pochi cassonetti ancora presenti in città. Stiamo cercando di aumentare il sistema porta a porta e quindi estenderlo in zone che in questo momento ne sono sprovviste. Il piano aro non ha indicato alcune zone per quanto riguarda la raccolta porta a porta. Noi stiamo facendo di tutto per permettere il sistema porta a porta per esempio nelle zone di San Giorgio, nelle zone di San Calogero, zone nelle quali in questo momento non si effettua il sistema porta a porta. Pensiamo anche quindi in quelle zone di eliminare i cassonetti e quindi un aumento sicuramente della raccolta differenziata. C'è tuttavia un richiamo dell'amministrazione ai cittadini a prestare maggiore attenzione nello smaltimento dei rifiuti e a rispettare le norme e le modalità indicate nelle varie ordinanze. C'è chi infatti continua a conferire la frazione umida in sacchetti non conformi. Il rischio è il blocco del conferimento e la sanzione per rifiuto di forme sia per il cittadino sia per il comune. Alcuni problemi che ci segnalano dall'impianto di compostaggio cittadino in quanto alcuni cittadini che ringraziamo sempre comunque per la collaborazione utilizzano ancora sacchetti che non sono compostabili per quanto riguarda la frazione umida. Noi in questo caso invitiamo tutta la cittadinanza ad una maggiore attenzione per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e rispetto delle norme delle modalità indicate nell'ordinanza. Quindi nel caso in cui ovviamente ci siano rifiuti umidi invitiamo a conferirli negli appositi sacchetti compostabili mentre tutti gli altri tipi di rifiuti in sacchetti trasparenti. Amministrazione Valenti come un gambero che va a marcia indietro, questa è l'accusa mossa oggi dall'opposizione di centrodestra in riferimento alla mancata apertura della scuola di via Catusi che ieri ha registrato la protesta dei genitori dei bambini che frequentano il plesso. È incomprensibile che l'istituto a lavori ultimati non sia ancora pronto per essere nuovamente utilizzato, dichiara il centrodestra. Sentiamo. La vicenda riguardante la scuola di via Catusi è l'ennesima dimostrazione della lentezza che caratterizza l'azione dell'amministrazione Valenti che come un gambero procede a marcia indietro. È così che l'opposizione di centrodestra commenta oggi il mancato trasferimento degli studenti nel ristrutturato plesso di scuola materna ed elementare nonostante i lavori siano stati ultimati da tempo. Una situazione di stallo che ieri ha registrato la protesta dei genitori dei bambini ai quali i consiglieri di centrodestra esprimono oggi la loro solidarietà per i disagi che stanno continuando a vivere costretti ogni mattina a compiere il tour della città per accompagnare i propri figli a scuola. Fin quando i lavori non erano ultimati, osserva l'opposizione, era quasi inutile levare un grido di lamento ma oggi a lavori completati e con l'istituto pronto per essere nuovamente utilizzato, è davvero incomprensibile riuscire a rimanere calmi e serafici. Non vogliamo politicamente cavalcare l'onda della protesta, prosegue l'opposizione di centrodestra, ma restiamo annichiliti dalla solita noscialanza dell'amministrazione comunale che giornalmente affronta i problemi della città con estrema serenità senza sentire addosso il peso delle responsabilità. Noi, anche in qualità di componenti delle diverse commissioni consigliari, continueremo a spronare quotidianamente l'amministrazione per raggiungere l'obiettivo della riapertura e rinnovata fruizione dello stabile, ma non possiamo non evidenziare, concludono i consiglieri di centrodestra, come la lentezza sia la parola d'ordine di questa amministrazione comunale. Si riaccende il dibattito politico a Sciacca sulla gestione dell'acqua dopo le rassicuranti dichiarazioni di ieri del sindaco e presidente dell'ATI Francesca Valenti rispetto all'allarme che aveva invece sollevato il sindaco di Libera Carmelo Pace rispetto alla crisi di liquidità di girgenti acque, al blocco delle manutenzioni delle reti idriche e fognare e alla futura gestione del servizio in provincia. Su quest'ultimo aspetto, sia sul piano B del quale ancora non si sa nulla, oggi i consiglieri Bono e Miglioti tornano ad attaccare Francesca Valenti. Sentiamolo. Prendono spunto dall'allarme lanciato nei giorni scorsi dal sindaco di Libera Carmelo Pace rispetto alle difficoltà gestionali di girgenti acque, ma fanno anche riferimento all'intervento di tutt'altro tenore del sindaco e presidente dell'ATI che ieri invece ha escluso qualsiasi problema. I consiglieri Calogero Bono e Giuseppe Miglioti tornano all'attacco sulla vicenda della gestione del servizio idrico integrato in provincia di Grigento, per il quale già nello scorso mese di novembre avevano sollevato non pochi dubbi rispetto ai problemi che in questa fase di gestione commissariale avrebbero potuto verificarsi. Oggi, sostengono Bono e Miglioti, le nostre osservazioni sono diventate problemi che vengono denunciati dai sindaci di alcuni comuni, ma che ancora una volta vengono negati dal sindaco e presidente dell'ATI Francesca Valenti. I fatti dimostrano per i due consiglieri che ci sono disservizi, che manca l'acqua in diverse zone della città e che Giorgenti Acque non è neanche in grado di assicurare, come faceva prima, la fornitura tramite autobotti. Tralasciando gli aspetti problematici legati alla gestione commissariale, i due consiglieri di opposizione tornano a porre la questione fondamentale, quella della futura gestione del servizio idrico integrato dopo la risoluzione del contratto con Giorgenti Acque, arrivata dopo l'interdittiva della prefettura. Sono passati mesi, dicono, e dal presidente dell'ATI e sindaco della città di Sciacca non si ha alcuna notizia del famoso piano B. Non sappiamo neanche, aggiungono Bono e Miglioti, se Francesca Valenti ha o non ha il benestare da parte degli altri sindaci per avviare le procedure di sostituzione del gestore tramite avviso pubblico, se si vuole seguire la strada dell'affidamento a privati o quella di una società che possa gestire in ausil servizio e se tutti i comuni della provincia, anche quelli che fino ad oggi non hanno consegnato le reti, sono disponibili in futuro a mettere a disposizione i loro pozzi. Questioni che non sono certamente secondarie per i consiglieri Bono e Miglioti, ma per le quali non è arrivato nessun elemento di chiarezza da parte del presidente dell'ATI, solo parole rassicuranti ma non fatti. E tutto ciò nonostante sia invece più che urgente avere già un piano alternativo. Cosa succederebbe, aggiungono i due consiglieri, se Giorgentiacqua all'improvviso per i noti problemi di liquidità fosse costretta a non poter più operare. Per i due consiglieri è necessario porre tali questioni al tavolo di confronto in prefettura, anche alla luce di iniziative come quella del Comitato Civico per l'Acqua Pubblica di Menfi, che proprio recentemente ha ribadito con forza determinazione la volontà di mantenere la gestione diretta del servizio idrico, appoggiati in questa battaglia attuale anche dal sindaco di Menfi. Insomma, per Bono e Miglioti è ormai arrivato il tempo della chiarezza da parte del sindaco e presidente dell'ATI su come si intende gestire il dopo Giorgentiacqua. E a proposito di Giorgentiacqua, parliamo di perdite idriche a San Marco e alla Perriera. Da un lato la mancata erogazione di idrica a San Giorgio dall'altro, torno alla rubrica dedicata alle vostre segnalazioni in cui ci occupiamo anche di problemi all'impianto di pubblica illuminazione in diverse zone della città. Sentiamo. La prima perdita idrica che segnaliamo oggi a chi di competenza si trova in via del villaggio incontrata a San Marco ed è da oltre due anni che insiste lungo la strada. Soltanto una volta dopo un nostro servizio, tempo fa gli operatori di Giorgentiacqua sono intervenuti a risolvere il problema, evidentemente non in modo definitivo. Anzi, secondo quanto riferiscono i residenti, l'acqua corrente che sgorga oltretutto da più punti, giorno dopo giorno ha peggiorato le condizioni dell'asfalto, sfaldandolo ogni qual volta si verifichi l'erogazione idrica. Una via, quella del villaggio, che quindi, oltre ad essere percorsa da un torrente, versa anche in condizioni pessime. Il corso d'acqua percorre buona parte della strada, costeggiando le tante abitazioni presenti in zona ed arrecando, come è facile immaginare, non pochi disagi ai cittadini che risiedono nella zona tutto l'anno. Impossibile, ad esempio, uscire di casa senza bagnarsi. E si continua a sperperare un bene prezioso come l'acqua che spesso oltretutto scarseggia nella contrada. Una situazione insostenibile che va avanti ormai da troppo tempo, riferiscono esasperati i residenti, nella speranza che dopo questa segnalazione a Girgentiacque si decida di intervenire a risolvere il problema. E questa volta con dei lavori realizzati a regola d'arte, come si dice in questi casi. Naturalmente la società è stata più volte contattata dai cittadini residenti in via del villaggio, ma come spesso accade senza alcun risultato da, lo ripetiamo ancora una volta, ben oltre due anni. Altra storica, si fa per dire perdita idrica, si trova invece alla Perriera. Un copioso flusso d'acqua dalla Via dei Tigli si riversa nella strada principale del quartiere, Corso Miraglia. Pare abbia origine da un'aiuola di un albero sul marciapiede di Via dei Tigli. A generarsi, come vedete, un fiume in piena che influisce sulle già compromesse condizioni dell'asfalto, generando profonde pozzanghere. Sia Via dei Tigli sia Corso Miraglia sono strade altamente trafficate e passare da lì a piedi senza bagnarsi è una vera e propria impresa. Si tratta, come accennavamo, ad un problema che si ripresenta con costanza nel tempo. Anche in questo caso sollecitato un intervento da parte di Girgenti Acque. Se da una parte si disperde il bene prezioso, nella località balneare di San Giorgio viene lamentata la mancata erogazione idrica. Secondo quanto riferisce oggi il presidente dell'associazione Pro San Giorgio, Raffaella Osso, è dai primi giorni del mese di novembre che i residenti non ricevono una sola goccia d'acqua. I cittadini che anche in questo caso risiedono nella località balneare tutto l'anno e non soltanto in estate, gravati da notevoli disagi, hanno segnalato ripetutamente il disservizio a Girgenti Acque, ad oggi senza alcuna risposta. Cambiando argomento e zona ci spostiamo verso il centro storico, al buio da oltre 20 giorni il coltire Zito, in zona Santa Venera. Da quasi un mese i residenti hanno comunicato il guasto al comune, ma ad oggi la zona risulta essere ancora non illuminata, con tutte le conseguenze del caso. Ci riferiscono infine problemi nell'illuminazione pubblica anche in via Catusi. Qui sono un paio, i pali della luce a non essere funzionanti da diversi giorni. I medici del servizio veterinario dell'ASPE di Aie di Sciacca hanno salvato la vita di un cano in randaggio che la notte scorsa incontrato a Ferraro aveva ingerito verosimilmente una polpetta avvelenata. Sentiamo. È stato salvato in extremis grazie all'allerta tempestiva lanciata da una residente, un cano in randaggio che stanotte si è poi scoperto aveva ingoiato una polpetta avvelenata. Il fatto si è verificato in località Ferraro. Ad intervenire sono stati i medici veterinari del servizio dell'ASPE di Agrigento. Il responsabile Gino Rasio e il dottor Vincenzo Costa hanno prelevato l'animale agonizzante e poi all'ambulatorio veterinario di San Michele ha adottato le pratiche cliniche necessarie che si sono rivelate determinanti per salvargli la vita. La persona che ha telefonato al servizio veterinario ha correttamente sospettato dai sintomi esterni mostrati dal cane che l'animale avesse ingerito un'esca avvelenata. I medici del servizio veterinario hanno già informato dei fatti avvenuti il sindaco comunicando con un'apposita relazione trasmessa dalla stessa procura della Repubblica la notizia di reato. Ovviamente al momento si procede contro i gnoti. L'episodio tuttavia d'esta grossa preoccupazione anche perché si rende necessario e urgente effettuare una bonifica dell'area interessata al fine di individuare eventuali altre esche avvelenate che, inutile dirlo, sono pericolose sia per gli animali sia per gli uomini. Il sindaco Francesca Valenti intende tornare a sottoporre l'emergenza randaggismo al prefetto di Agrigento. Quanto accaduto è grave e richiama alla memoria contesti particolarmente drammatici come il maxi avvelenamento dello scorso anno di contrada amuciare. Sono diversi i problemi tuttora sotto i riflettori da quanto si apprende il più difficile da fronteggiare è quello che riguarda la somministrazione di cibo che viene garantita da alcuni volontari animalisti. Una condizione che genera la concentrazione di randaggi in luoghi ormai divenuti autentici punti di riferimento rispetto alla loro necessità di sfamarsi. È allo studio un'ordinanza specifica che possa disciplinare questo tema prevedendo dove possibile apposite sanzioni per i trasgressori. Naturalmente occorre precisare che niente nessuno giustificherà mai l'atteggiamento scellerato di chi sparge sul territorio le esche avvelenate. Il problema di chi porta da mangiare ai cani è naturalmente solo uno dei temi al centro dell'attenzione causando un tema di vivibilità sul territorio. Si è preso recentemente che è in corso una campagna di sterilizzazione finanziata con fondi della regione, quelli promesse da Nello Musumeci dopo il maxi avvelenamento di Muciare, ma la questione rileva sotto punti di vista diversi dalla necessità di ospitare randaggi presso i canili convenzionati ad un sistema delle adozioni che ancora non riesce a funzionare a dovere. Imposta di soggiorno, una mozione presentata dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Teresa Bilello impegna l'amministrazione a fare scegliere all'operatore turistico come utilizzare il 25% delle somme ricavate. La gestione di tale risorsa non può essere esclusiva a pannaggio dell'assessore di turno. Osserva Teresa Bilello, sentiamola. Sull'imposta di soggiorno occorre maggiore trasparenza e in ogni caso gli operatori turistici e i cittadini saccensi devono diventare protagonisti e non semplici spettatori. Devono essere loro a selezionare gli investimenti che servono alla città di Sciacca per diventare una meta turistica di tutto rispetto. Parte da queste considerazioni l'iniziativa assunta dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Teresa Bilello porta alla sua firma la mozione che impegna l'amministrazione a dare voce a tutti i proprietari di strutture ricettive del territorio saccense affinché abbiano la facoltà di scegliere come destinare una quota pari al 25% delle somme ricavate con l'imposta di soggiorno. Secondo l'idea del Movimento 5 Stelle, gli operatori turistici potranno presentare ogni anno dei progetti di investimento coerenti con il regolamento sull'imposta di soggiorno che saranno poi valutati dagli uffici e dal tavolo tecnico per l'imposta già previsto dal regolamento. Quelli che riceveranno il nulla osta verranno infine votati dai cittadini e le proposte scelte dovranno essere realizzate dall'amministrazione nel rispetto del budget assegnato. Per il Movimento 5 Stelle il tesoretto dell'imposta di soggiorno che per il 2018 ammonta a 878 mila euro non può essere gestito soltanto dall'assessore di turno ma devono essere gli stessi operatori a deciderne la destinazione ovvero coloro che vi contribuiscono tutti i giorni con le proprie attività e che ascoltano dalla viva voce i turisti ma che leggono tante volte a malincuore le recensioni che gli stessi lasciano sui vari portali online. Ma c'è di più, secondo Teresa Bilello tutti i cittadini hanno il diritto di sapere in che modo viene investito e ricavato dell'imposta di soggiorno, occorre cioè maggiore trasparenza e non a caso la mozione impegna l'amministrazione anche a pubblicare sul sito del Comune con cadenza bimestrale il rendiconto aggiornato delle spese sostenute. Strade di accesso al mare, servizi ai bagnanti, progetti di rigenerazione urbana, di manutenzione straordinaria di nodi viari nevralgici per i flussi turistici, di migliore fruizione dei beni culturali, parcheggi nei pressi dei Lidi, eventi culturali, arredo urbano, percorsi turistici, storico-artistici ed esperenziali, progetti di promozione del territorio. Questi alcuni esempi di progetti che potranno essere realizzati e che verranno prima proposti dagli operatori turistici e poi votati dai cittadini. Conclude Teresa Bilello. E di imposte di soggiorno, ma anche delle recenti polemiche legate al Carnevale di Sciacca, si parlerà stasera nel corso della seduta del Consiglio Comunale, la cui convocazione è stata sollecitata da 12 consiglieri di opposizione, previsto anche il dibattito sulla vicenda Ponte Can Salamone. Condizioni di degrado nell'atrio superiore del Comune lao segnala un report fotografico e l'associazione dell'altra Sciacca che si riferisce in particolar modo ad alcune colonne all'ex convento dei Gesuiti che sono completamente annerite e ricoperte di fango, forse a causa dell'otturazione di qualche caditoia. Sentiamo. Manutenzione di tutti i beni comunali. Si potrebbe fare di più. Questa è quantomeno l'opinione dell'associazione di promozione sociale l'altra Sciacca che, in una nota stampa trasmessa oggi, pone l'attenzione sulle condizioni di parte dell'atrio superiore del Comune. Il suo delizio, presieduto da Pietro Mistretta, si riferisce in particolar modo ad una delle colonne dell'atrio che è completamente ricoperta di acqua e fango, a causa, molto probabilmente, dell'otturazione di una caditoia d'acqua posta nella parte superiore. Come si evince dalle foto, la colonna è quasi totalmente annerita. Ne andrebbe eseguita la pulizia, la sistemazione della caditoia e l'eliminazione delle erbacce che crescono spontaneamente. Si tratta ovviamente di un brutto biglietto da visita per tutti quegli utenti e soprattutto per quei turisti che sono soliti visitare l'ex convento dei Gesuiti. È vero che il bilancio cittadino non ci permette ristrutturazioni, ma non ci possiamo neanche permettere la manutenzione ordinaria del palazzo di città? Si chiede l'altra sciacca. È mai possibile che in questa città non si riesca nemmeno a fare una semplice manutenzione ad un bene comunale? Prosegue l'associazione. Segnaliamo questa situazione di degrado a chi di competenza, nell'auspicio che tutti i beni comunali possano essere oggetto di opportuna manutenzione. Quando si vede il palazzo comunale così abbandonato, conclude l'altra sciacca, più che per mancanza di fondi, abbiamo l'impressione che la manutenzione non si faccia per l'incuria e l'inefficienza di chi dovrebbe occuparsene. A prescindere, il palazzo comunale va sistemato e reso decoroso agli occhi di tutti. Elezione europea del 26 maggio prossimo. I cittadini degli altri paesi dell'Unione europea residenti a Sciacca per poter esercitare il diritto di voto entro il prossimo 25 febbraio dovranno presentare domande di iscrizione nell'apposita lista aggiunta già istituita al Comune di Sciacca. Il sindaco Francesca Valenti a proposito ha diramato un avviso in più lingue. La domanda dovrà essere presentata personalmente dall'interessato, potrà essere spedita mediante raccomandata all'ufficio elettorale. Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio elettorale del Comune di Sciacca per ogni ulteriore informazione. Una troupe di RAI 3 TGR Sicilia sarà quest'oggi a Sciacca per realizzare un servizio dedicato alla città e al suo carnevale grazie ad un'iniziativa della Futuris, la società che organizzerà quest'anno la manifestazione. Il reportage della RAI sulla città di Sciacca documenterà una fase peculiare della manifestazione, la creazione delle maestose opere in cartapesta da parte dei carristi saccensi. Il servizio sarà trasmesso nei prossimi giorni sulle reti RAI. La promozione dell'arance di Ribera DOP alla Fruit Logistica di Berlino ha dato i suoi risultati. In tre giorni al padiglione dell'assessorato agricoltura della Regione Sicilia sono stati firmati accordi commerciali con diversi imprenditori per esportare le arance di Ribera in diverse nazioni. soddisfatto è il presidente del Consorzio di tutela dell'arancia di Ribera DOP, Giuseppe Pasciuta. Sentiamo. La promozione dell'arancia di Ribera alla Fruit Logistica di Berlino, usando un gioco di parole, sembra dare i suoi frutti. La vetrina mondiale dell'ortofrutta è stata utile ad intercettare mercati importanti, con conseguenti benefici sull'export e sullo sviluppo economico del territorio, riferisce oggi Giuseppe Pasciuta, presidente del Consorzio di tutela dell'arancia di Ribera DOP. La fiera internazionale, che anche quest'anno per tre giorni ha attratto migliaia di visitatori, ha rappresentato per gli operatori dell'arancia di Ribera un momento straordinario di incontro con i clienti e buyers mondiali, nel suggestivo scenario del padiglione dell'assessorato agricoltura della regione siciliana. L'arancia di Ribera DOP a Berlino ha confermato il suo successo, con una qualità di arance eccellenti ed una produzione al di sopra delle aspettative, in una campagna agrumicola da ricordare, anche alla luce dei recenti accordi commerciali verso i mercati esteri, specie con le arance di Ribera DOP bio. Soddisfatto dell'esperienza berlinese, dunque Giuseppe Pasciuta, presente alla fiera, anche in qualità di vicepresidente del distretto Agrumi di Sicilia. Ha infatti il relazionato all'incontro sul progetto Social Farming 2.0, agricoltura sociale per la filiera agrumicola siciliana, realizzato dal distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces. L'occasione è servita per mettere in evidenza l'importanza dei progetti di iniziativa partecipata di alta levatura, come la Social Farming, che anche in questa seconda edizione ha puntato sulla formazione tecnico-professionale e imprenditoriale, richiesta in alcuni ambiti specifici dalla filiera agrumicola in Sicilia, regione con la maggiore estensione di coltivazioni agrumicole in Italia. Adesso i consigli della Mondatore di Sciacca. Una madre che non ha avuto il tempo di esserlo, un figlio mai cresciuto, tra di loro i giorni teneri e feroci, sognati eppure vividissimi, che non hanno vissuto insieme. È un dialogo ininterrotto che racconta cosa significa diventare donne e uomini oggi, a più di 40 anni dai versi che hanno disegnato i contorni di un cambiamento possibile, libere, infine, di essere noi, intere, forti, sicure, donne senza paura, da Ciamaraini riavvolge il filo di una storia tempestosa, quella al femminile, attraverso le parole di una madre e un figlio perduto, il suo, che cammina verso la maturità pur abitando solo nei ricordi. È così che l'immaginazione si fa più vera della realtà, come accade per tutte le donne che popolano i suoi libri, Marianna, Colombo, Isolina, Teresa, e sono arrivati a noi con le loro voci e i loro corpi, corpi che non hanno mai smesso di cercare la propria via per la felicità, pieni di vita o disperati per la sua assenza, amati o violati, santificati o temuti, quasi sempre dagli altri, gli uomini. Ed è proprio a loro che parlano queste pagine, agli occhi di un bambino maschio non ancora uomo, per ricordare a lui e a tutti noi, sul filo sottile ma resistente della memoria, che solo quando l'amore arriva a illuminare le nostre vite, quello tra i sessi non sarà più uno scontro, ma l'incontro capace di cambiare le regole del gioco. Corpo Felice, di Dacia Maraini e di Torrizzoli. Si chiude qui il nostro telegiornale, ancora una volta grazie per essere con noi, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.